Signor femmine, prima batteria alla partenza, Catapan, Zanatta, Burroni, Pesce, Minel, Visentini, Buso, dalla 1 alla 7. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Tanto abbiamo anche i finalisti dei 50 stile libero assoluti maschili Ufficializzato il risultato, Alberto Bosa, miglior tempo 22.98 Con lui in finale, Manuel Frigo, Alfieri Gregoratti, Elia Zennaro, Enrico Santi, Marco Lorenzon, Nicolas Marcon, Victor Smilevski Last time for the final of Man 50 Meter Freestyle Ultimo tempo per la finale, 50 stile libero maschili di Smilevski 24.38 Intanto Anita Pesce si prende la vittoria di questa batteria per lo Sporting Club Noale Uno sedici e trentasei davanti a San